Un gioco per sensibilizzare i bambini delle scuole medie ed elementari ad andare a scuola con sistemi di mobilità alternativi. È lo scopo del Mobility Game, iniziativa ormai consolidata dalle comuni di Senigallia, che quest'anno ha coinvolto oltre 1200 bambini. Mobility Game è un vero e proprio concorso attuato in collaborazione con la cooperativa Forest Alp, centro di esperienza ed educazione ambientale, e l'associazione genitori AGE. Quest'anno lo slogan si è arricchito di questo sicuri e leggeri. Noi abbiamo voluto mettere in evidenza il fatto che a scuola bisogna andare il più leggeri possibile, quindi un riferimento allo zaino, che appunto alcune ricerche scientifiche hanno certificato che il peso dello zaino non deve superare il 15% del peso del corpo. Abbiamo innanzitutto chiesto all'inizio delle lezioni che cosa ci fosse nello zaino e quindi i bambini hanno detto che c'erano tot numero di libri, quadernoni, raccoglitori e tante altre cosucce che loro si portano dietro. Noi quindi quest'anno insomma siamo voluti andare un pochino per il sottile per quanto riguarda il discorso dello zaino pesante, perché riteniamo che alla lunga, soprattutto se il bambino non ha un fisico allenato, questo peso effettivamente può influire negativamente. Nel Mobility la nostra presenza è legata al progetto di educazione ambientale, in quanto praticamente questa attività sensibilizza notevolmente i temi della sostenibilità ambientale, per cui in questo caso il risparmio dell'anidride carbonica e dell'emissione dei gas a serra. Altro apporto fondamentale per la riuscita del progetto è quello del personale volontario, messo a disposizione dalle associazioni di volontariato Anteas, Hauser e Banca del Tempo, insieme ad alcuni genitori che hanno dichiarato la loro disponibilità personale, impegnato a guidare gruppetti di bambini lungo percorsi pedonali, opportunamente messi in sicurezza fino alle rispettive scuole. Abbiamo recuperato, o cerchiamo di recuperare, tutti quei rapporti, diciamo, tra nipoti e nonni che spesso vanno persi. Accompagnare i bambini a scuola è una cosa molto importante per noi, anche perché come associazione dei volontariati non è che facciamo solo quello, è ovvio. È una bella iniziativa, è una cosa che gratifica i bambini e soprattutto i volontari che sono disponibili per aiutare appunto e sensibilizzare i bambini. Io penso che sia una soluzione bellissima per insegnare ai nostri bambini a vivere l'ambiente nella maniera giusta, quindi a ridurre i problemi di inquinamento. Una competizione ovviamente con premi per i partecipanti che incentiva gli studenti di tre scuole medie senigallesi di cinque elementari a effettuare il viaggio di andata a casa scuola con sei diversi sistemi di mobilità alternativi all'uso privato dell'auto. Nello specifico si tratta del pedibus, ossia piedi muovendosi singolarmente o in gruppetti da un determinato punto per raggiungere la scuola. Pedibus guidato, camminando lungo tracciati protetti appositamente individuati con accompagnamento da parte di volontari. Bicibus, usando la bicicletta anche in questo caso da un determinato punto di partenza alla scuola. Autobus, usando quindi il mezzo pubblico. Carpooling, ossia a bordo di auto privata ma con almeno tre studenti a bordo. Mobilità mista, con auto fino alle vie limitofre della scuola, con distanza non inferiore a 300 metri dalla stessa scuola e proseguimento a piedi. Ad ognuno di questi sistemi di spostamento ho segnato un quantitativo definito di risparmio di anidride carbonica e all'arrivo in classe ogni bambino provvede a segnare su un cartellone il proprio risparmio di CO2 associato al mezzo di trasporto utilizzato. Consiglierei a tutti i bambini che stanno vicino alla scuola a fare il mobility game, andare a piedi, così si risparmia. Io preferisco andare a piedi perché si guadagnano più punti, però così almeno ci sono anche più amici. I bambini protagonisti delle mobility game sono da tre anni coinvolti positivamente nel progetto partecipando con grande entusiasmo all'obiettivo da raggiungere, che nello specifico è quello per classe, di totalizzare ogni settimana un punteggio medio superiore al valore di 32 grammi di anidride carbonica risparmiata. Quando arrivo in classe metto segno ai punti. Segno ai punti e sei in una posizione favorevole? Segno a 60. Andando a piedi si risparmiano 60 grammi di anidride carbonica. Quindi questo è un insegnamento anche che possiamo dare alle persone che ci vedono? Sì, ogni volta a settimana si sommano tutti i punti, cioè si fanno le medie, poi dopo si sommano tutte le medie del mese. Quindi diventa un po' anche una competizione tra le varie classi? Più o meno, sì. Al termine del concorso, iniziato il 7 aprile scorso, che coincide proprio con la giornata odierna, ogni classe potrà acquistare presso gli sponsors delle mobility game, il maestrale, bucce e autoline, campi in sport e coppia adriatica, materiale didattico per un importo pari alla somma dei buoni ottenuti durante la gara. In sostanza è una comunità educativa che si è attivata intorno a questi bambini, perché c'è il comune come soggetto propulsore, le cooperative che si occupano di ambiente, come braccio operativo, c'è la scuola che c'è sempre stata e quest'anno ancora con più forza, con più adesione. C'è quest'anno come novità il mondo del volontariato e poi infine le famiglie che quest'anno veramente hanno dato un segno forte di convinzione sul fatto che bambini sono gli adulti del futuro. Sono alcuni anni che questa città è impegnata nello sviluppare modalità di mobilità alternativa all'uso dell'auto privata. Ricordo le oltre 10 chilometri di piste ciclabili che abbiamo realizzato nell'ultimo periodo, il progetto di bike sharing che sta andando molto bene, biciclette condivise fra tutti i cittadini, sono circa un migliaio quelli che stanno utilizzando le oltre 60 biciclette comunali, il potenziamento del trasporto pubblico che è stato introdotto con assoluta novità da quest'anno anche nei giorni festivi e ovviamente poi c'è la riorganizzazione del traffico veicolare delle auto private che non è una cosa semplice, la stiamo facendo con una metodologia molto puntuale e alcuni risultati li abbiamo ma ovviamente occorre il tempo e occorre lavorare anche sul livello culturale dei cittadini, ovviamente degli amministratori comunali in primis. Le classi più meritivoli verranno premiate con una gita, il prossimo 31 maggio è in programma la maestrale, la cerimonia di premiazione dell'iniziativa che come detto in questa terza edizione ha coinvolto oltre 1200 bambini.